Ciao bambini! Oggi vi voglio raccontare una storia che ci ha mandato una bambina di nome in una che voglio ringraziare tanto. È la storia di Ruby e di quando incontrò una preoccupazione. A Ruby piaceva essere Ruby. Amava volare in alto ed esplorare posti selvaggi e lontani. Qualche volta arrivava persino nella zona più remota del giardino. Ruby era davvero felice finché un giorno scoprì una preoccupazione. Non era molto grande. Anzi era così piccola che all'inizio Ruby non se n'era quasi accorta ma poi la preoccupazione aveva iniziato a crescere. Non la lasciava mai sola. Ogni giorno era diventata sempre più grande. Era lì a colazione a fissarla da dietro la scatola dei cereali ed era ancora lì la sera mentre si lavava i denti. La cosa strana era che nessun altro riusciva a vedere la preoccupazione di Ruby. Neanche la maestra. Così Ruby faceva finta che fosse invisibile anche per lei. Provava ad andare avanti come se fosse stato tutto normale ma non lo era. La preoccupazione era sempre lì a impedirle di fare quello che prima amava fare. Ruby si chiedeva quando se ne sarebbe andata via. E se non l'avesse mai lasciata? E se fosse rimasta con lei per sempre? Ruby non se ne rendeva conto ma stava facendo la cosa peggiore che puoi fare quando hai una preoccupazione. Si stava preoccupando. Così la preoccupazione diventò enorme. Entrava malapena in cucina. Riempiva da sola mezzo scuolabus. E al cinema occupava un'intera fila. Ruby non riusciva a pensare a nient'altro che alla sua preoccupazione. E le sembrava che non sarebbe stata mai più felice. Poi un giorno accadde qualcosa di sorprendente. Nel parco Ruby vede un bambino seduto da solo. Sembrava che si sentisse proprio come lei triste. E poi notò qualcos'altro. Qualcosa che gli ronzava intorno? Era forse una preoccupazione? Lo era! Ruby si accorse che nonostante tutto non era l'unica persona con una preoccupazione. Ognuno aveva una preoccupazione. Così decise di chiedere al bambino a cosa stesse pensando. E mentre lui raccontava avvenne qualcosa di incredibile. La sua preoccupazione cominciò a rimpicciolirsi. Allora Ruby fece la cosa migliore che puoi fare quando hai una preoccupazione. Iniziò a parlarne. E più parlava, più la preoccupazione di Ruby diventava piccola, finché quasi non si vide più. Poco dopo, entrambe le preoccupazioni erano scomparse. Finalmente! Ruby si sentiva di nuovo Ruby. Certo non fu l'ultima volta che Ruby ebbe una preoccupazione. Tutti ne hanno di tanto in tanto. Ma adesso aveva capito come liberarsene. E quando una preoccupazione arrivava, non rimaneva mai a lungo.